In questo video analizzeremo un argomento molto importante, la creazione di un portafoglio Bitcoin. Mi avrei bisogno per lavorare sulle piattaforme di scambio di criptovalute e per acquistare prodotti Platincoin in Bitcoin. Ti mostreremo come creare un portafoglio con Blockchain Info, uno dei più popolari e affidabili hosting di criptovalute. Vai alla home page di blockchain.com. Per evitare di accedere a un sito di phishing, non accedere tramite un motore di ricerca, ma segui il link che abbiamo lasciato nella descrizione di questo video. Clicca sul pulsante Get Started. Inizia. Si aprirà la pagina di registrazione. Nella finestra che si apre inserisci la tua email e crea una password. Fai attenzione quanto crei una password. Una password troppo semplice aumenta il rischio di essere violata. Troverai istruzioni dettagliate sulla creazione di password complesse nella descrizione di questo video. Dopo aver inserito la tua email e aver creato una password, fai clic su pulsante Create Wallet. Crea portafoglio. Il tuo portafoglio è stato creato. Ora configuriamo l'autenticazione a due fattori, che fornirà una protezione aggiuntiva al tuo account. Dopo aver impostato l'autenticazione a due fattori, ogni volta che accederà al tuo account verrà inviata una password monouso al numero di cellulare indicato. Per fare ciò, clicca sul pulsante Security, sicurezza, nell'angolo in alto a destra. Nella finestra che si apre, individua la voce Two-Step Verification. Verifica in due passaggi e clicca sul pulsante Enable, Abilita. Si apriranno tre opzioni per configurare l'autenticazione. Ti consigliamo di scegliere la verifica utilizzando un telefono cellulare. Questa è la terza opzione. Cliccaci sopra. Nella finestra che si apre, inserisci il tuo numero di cellulare e clicca su Get Verification Code. Ottieni il codice di verifica. Riceverai un messaggio SMS con un codice. Immetti il codice ricevuto nella finestra e clicca sul pulsante Submit Code. Invia codice. Fatto. Hai configurato l'autenticazione a due fattori. Ora scopriamo come visualizzare il numero del tuo portafoglio. È molto semplice. Per iniziare torna alla schermata principale. Quindi seleziona Request, Richiedi, dal menu in alto e cliccaci sopra. Si aprirà una finestra in cui vedrai un codice QR con un link al tuo portafoglio e il suo numero. Puoi copiarlo cliccando sul pussante Copia alla fine della riga.